Mi fa piacere sapere che in un periodo di grande crisi la mia vincitoria, come tante altre volte, ha regalato un bel premio, stavolta molto più sostanzioso, da un milione e mezzo di euro. Sono felice per loro e spero che li rimetti di nuovo in commercio così possa dare lavoro a tante altre famiglie, non da solo, così si gira un po' di economia a caserta e stanno tante persone bene. Dopo portare un milione e mezzo di euro a caserta spero che si muova qualcosa e questa è la cosa. Come vendita di biglietti alla lotteria non mi posso lamentare, ho avuto una grande vendita di biglietti e quindi sono fortunato di nuovo per loro.